Benvenuti al corso di museologia e teoria del restauro. Come sappiamo appunto il nostro corso sarà diviso in due moduli dedicati a queste due materie che si distinguono ma anche si compenetrano. Perché si compenetrano? Ovviamente perché noi andremo a osservare e ad analizzare lungo il corso diciamo cronologico della storia ma anche attraverso un approccio tematico tutto ciò che riguarda la conservazione degli oggetti d'arte, tutti i temi legati appunto alle modalità di raccolta, di conservazione e di esposizione e naturalmente in questo potete ben comprendere che sia la museologia appunto che tutto ciò che riguarda gli interventi di restauro sono due aspetti diciamo due facce della stessa medaglia legata alla conservazione delle opere. Per comodità noi distingueremo appunto queste due materie nei due moduli ma come vedrete ci saranno dei momenti in cui queste due materie si sfioreranno, si toccheranno e quando saremo arrivate alla fine del secondo modulo certamente vedrete che avremo tratto giovamento per il secondo modulo da tutto ciò che abbiamo imparato dal primo e per comprendere ancora più a fondo ciò che abbiamo affrontato nel primo modulo da ciò che abbiamo affrontato invece nel secondo. Allora iniziamo oggi quindi con questo percorso dedicato alla museologia e mi piace quando inizio i corsi di museologia partire da questa citazione di Julius von Schlosser che forse conoscerete che è per noi diciamo il padre della storia della letteratura artistica che scrive in un testo come vedete di inizio novecento dedicato alle raccolte di meraviglie che è un tema che affronteremo nella prossima lezione scrive appunto chi si accingesse a scrivere una storia del collezionismo a partire dalle origini tenendo conto di tutte le diverse diramazioni e deviazioni non dovrebbe forse disdegnare di partire dalla gazza ladra. Allora secondo voi che cosa vuol dire questa citazione perché lui tira in mezzo questo animale? forse perché il collezionismo nasce proprio dal rubare le opere d'arte o appropriati di besti, di besti, di non so, di opere che mi fanno una stazione, ma sono sempre la prima stessa del collezionismo riguardo un un anno di mezzo che si è appropriato di appuntesti del prezzo del passegno. Ah sì, allora quindi la vostra collega come dire richiama la figura di Lord Elgin su cui torneremo più avanti e di cui parleremo molto e naturalmente il tema della acquisizione, usiamo questo termine neutrale, dei marmi del partenone da parte degli inglesi è un tema che si presterà proprio come vi dicevo quando adotteremo un approccio un po' più tematico ad analizzare la questione delle restituzioni per l'appunto e quindi appunto la vostra collega cita Lord Elgin per spiegare questa metafora della gazzaladra e quindi per parlare del fatto che alla base del collezionismo c'è, se posso tradurre in questo modo, quindi una volontà di possesso nei confronti delle opere d'arte ed effettivamente sì è vero, quindi diciamo il parallelo con un animale che quindi agisce in qualche modo irrazionalmente, se così vogliamo dire, è per richiamare il fatto che le origini del collezionismo stanno proprio in questa volontà di possedere degli oggetti e se entriamo ancora un po' più nello specifico, da profani ovviamente perché non conosciamo nel dettaglio il mondo animale, però nelle abitudini della gazzaladra quali tipi di oggetti normalmente attraggono la gazzaladra? Quelli che luccicano, quindi diciamo qualcosa che è prezioso, almeno visivamente prezioso, quindi l'esempio di questo animale tiene insieme questi due concetti, la volontà del possesso e l'attrazione nei confronti di qualcosa di prezioso, che Schlosser quindi identifica come alla base dell'afflato proprio collezionistico da parte dell'umanità. Quindi noi per affrontare diciamo il tema della museologia e poi torneremo ovviamente su questo termine specifico, partiamo dall'idea che quindi ci siano delle collezioni, cioè che una serie di oggetti venga in qualche modo identificata tra tutti gli oggetti esistenti al mondo e isolata, diciamo idealmente posta all'interno di un recinto che distingue questi oggetti da tutti gli altri oggetti di uso comune che possono esistere nel mondo. E quindi come distinguiamo una collezione da un raggruppamento qualunque di oggetti? Per esempio su questa cattedra ci sono degli oggetti, questo è un raggruppamento di oggetti che naturalmente ha una sua funzione, quella di consentire a me in questo istante di svolgere questa lezione. Che cosa distingue una collezione da un qualunque altro raggruppamento di oggetti? Alcuni dettagli. Innanzitutto questi beni, questi oggetti sono temporaneamente esclusi dal circuito economico e dal valore d'uso. Quindi l'esclusione dal circuito economico è evidente, non sono oggetti che si acquistano o si vendono, in questo caso parliamo di collezioni, parliamo di beni che sono esclusi temporaneamente, poi su questo avverbio torneremo, e poi dal valore d'uso. Che cosa intendiamo per beni esclusi dal valore d'uso secondo voi? Esatto, non vengono utilizzati, esatto, quindi per esempio un vaso antico non verrà utilizzato come recipiente anche se è nato ed è stato fatto per questa finalità e quindi è escluso dal suo valore d'uso e diciamo infilato in questo recinto ideale che vi dicevo prima, in cui perde il suo utilizzo nel quotidiano. Poi questi beni, questi oggetti vengono adeguatamente tutelati dalla dispersione e dal furto, per evidenti ragioni naturalmente una collezione avrà anche questa caratteristica, cioè di cercare di non ovviamente far rubare gli oggetti ma anche appunto di non disperderli e questo poi il tema della dispersione delle collezioni sarà un tema su cui ritorneremo molte volte nel corso delle lezioni. Poi naturalmente questi beni dovranno essere esposti allo sguardo e vedremo poi allo sguardo di chi? Allo sguardo di pochi, di molti, di uno, di migliaia insomma, però diciamo il poter apprezzare il pregio che può essere un pregio di vario tipo e adesso a breve lo vedremo, è una condizione necessaria appunto per una collezione. Quindi questi beni vengono isolati, raccolti ed esposti e infine devono essere disposti in uno spazio specifico che garantisca tutti i punti precedenti. Quindi una collezione deve essere collocata in un luogo che consenta per l'appunto che questi beni siano esclusi dal circuito economico, che non vengano utilizzati per la finalità per cui sono stati realizzati, che siano tutelati dalla dispersione e dal furto e che siano visibili. Ora noi però parleremo principalmente di collezioni all'interno di spazi museali e allora nel museo, che impareremo a capire esattamente che cos'è e che cos'è il museo nella nostra società contemporanea e da quando il museo è quello che conosciamo noi, nel museo che cosa cambia rispetto a questi punti che adesso abbiamo visto e descritto? Cambia il fatto che questi beni sono definitivamente esclusi dal circuito economico e dal valore d'uso. Tendenzialmente, salvo ovviamente rarissime eccezioni, un bene che entra a far parte di una collezione museale non potrà più tornare sul mercato e sicuramente non potrà più acquisire il valore d'uso che aveva come oggetto di uso comune. Quindi fino a qui è tutto chiaro? Allora entriamo un po' nella terminologia e partiamo ovviamente dal termine, secondo voi da quale termine partiremo? Esatto, partiamo dal termine museo, che è un termine che noi mutuiamo, scusate, dal latino, quindi dal latino museum, è un termine che ha un'origine greca e l'etimologia significa luogo delle muse. È un termine che viene riferito, diciamo, come prima fonte da Strabone nel III secolo d.C., come vedete, per definire degli ambienti in cui si riunivano quindi a pensare di concerto, a riflettere e a discutere i famosi filosofi della biblioteca di Alessandria d'Egitto. Quindi un termine che viene da molto lontano e che chiama in causa ovviamente quali figure mitologiche? Le muse, esattamente. Quindi diciamo, già l'etimologia del termine ci fa capire che c'è qualcosa nelle origini della concezione del museo che lega il mondo visibile, per così dire, a quello invisibile. Quindi qualcosa che lega all'ispirazione. Voi sapete che le muse erano appunto queste figure mitologiche che normalmente accompagnavano Apollo ed erano quindi delle figure molto legate anche alla creazione artistica, musicale e all'ispirazione quindi per chi esercitava l'intelletto in qualche modo riflettendo su queste discipline. Quindi dicevo una sorta di legame tra il visibile e l'invisibile e anche su questo torneremo tra poco. Questo termine è entrato poi in uso legato appunto alla formazione, l'esposizione e la disposizione delle collezioni nel corso del Rinascimento nei territori italiani preunitari. Quindi diciamo noi oggi ci serviamo di un termine che ha questa marca rinascimentale e italiana per così dire. Ma che cosa si intende oggi nel nostro presente per museo? Esiste una definizione di museo, quindi non ce la dobbiamo inventare noi ed esiste grazie al fatto che esiste un organismo internazionale che si occupa dei musei che è l'ICOM. Quanti di voi hanno sentito mai parlare dell'ICOM? Nessuno, va bene allora. L'ICOM che come vedete è l'International Council of Museums e che è stato creato nel 1946 per appunto sovrintendere a livello internazionale e che ospita sempre naturalmente a livello internazionale i professionisti museali che si riuniscono e riflettono su molti aspetti della vita dei musei, tra cui ovviamente sulla definizione stessa di museo. E la prima definizione dell'ICOM di museo è del 1951. Come vedete io vi ho segnalato le modifiche che questa definizione ha avuto e potrete notare da voi, dalle date, che si tratta di modifiche che negli ultimi decenni sono sempre più ravvicinate, no? Vedete che dal 1951 passiamo al 2001 e poi 2004 e poi 2022. La definizione infatti che vedete proiettata è una definizione che è stata concordata nell'ultima assemblea ICOM che è di più o meno insomma un mese fa, quindi tempi molto vicini, tant'è che come vedete la traduzione in italiano è ancora da ufficializzare, della nuova definizione. Che cosa ci dice il fatto che ci siano delle modifiche alla definizione di museo? Ci dice che il museo è un organismo vivo che è un'emanazione della società, è un'emanazione della cultura di una società e di conseguenza quindi essendo una società, un organismo vivente, anche il museo è un organismo che per definire se stesso può cambiare i termini, può cambiare le parole. Come vedete ad esempio nel 2004 fu introdotta un grande cambiamento nella definizione con l'inserimento delle testimonianze immateriali della civiltà e non più soltanto di quelle materiali che naturalmente sono state storicamente oggetto di musealizzazione. Avete idea di che cosa si intenda per testimonianze immateriali? Per esempio una civiltà come può lasciare testimonianze immateriali? Per esempio i dialetti sono dei patrimoni culturali legati alle civiltà che nella maggior parte dei casi non hanno una letteratura insomma quindi non vengono preservati dalla letteratura per l'appunto e quindi il dialetto è un esempio di questo tipo e come vedete le testimonianze immateriali sono state inserite nel 2004 quindi sempre per questa questione di una definizione in continuo aggiornamento e infatti la definizione ultima 2022 è una definizione molto articolata rispetto a come si presentava inizialmente la definizione di museo e proviamo a vedere che cosa ci dice. Ci dice che il museo è un'istituzione permanente e fin qua senza scopo di lucro al servizio della società che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico accessibili e inclusivi i musei promuovono la diversità e la sostenibilità operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Quindi vedete una definizione piuttosto ricca che ci dice appunto che il museo è un'istituzione che è permanente, che la finalità del museo non è quella di guadagnare denaro, quindi senza scopo di lucro e questo è un dato molto importante, che è al servizio della società e questo è un percorso diciamo quello del museo al servizio della società che noi seguiremo appunto nel corso della storia e questa è una tematica che è molto debitrice della cultura illuminista appunto del settecento quando si definirà appunto l'idea del fatto che il patrimonio serve alla società e serve perché che cosa fanno i musei? I musei come vedete collezionano, conservano e forse questo è ciò che è più scontato nella nostra idea appunto di museo, il fatto che ospiti una raccolta, ma effettuano ricerche, quindi si tratta di un'istituzione che continua ad aumentare, che ha il compito di continuare ad aumentare il patrimonio di conoscenze sugli oggetti che ospita, quindi anche in questo caso non è immobile e soprattutto interpreta ed espone il patrimonio, quindi che lo esponga è evidente appunto questo, anche questo possiamo intuitivamente arrivare, ma che cosa intendiamo per interpreta? Cioè quando noi visitiamo un museo siamo di fronte diciamo a un'esposizione neutrale oppure siamo di fronte a un'esposizione mediata dall'idea di qualcuno che quindi interpreta quel patrimonio e ce lo offre secondo la sua interpretazione, secondo voi? No, è un museo mediata, è un museo di curata, la collezione da qualcuno Esatto Esattamente, quindi giustamente la vostra collega utilizza anche questa parola molto adatta, cioè il fatto che ci siano dei curatori e quindi che una collezione è curata da qualcuno e di conseguenza è presentata appunto secondo il pensiero di questo qualcuno e infine vedete questa per la prima volta la definizione di museo ha abbandonato l'antico binomio che era educazione e diletto e al posto della parola diletto che forse era un po' antiquata adesso troviamo la parola piacere però comunque resta il fatto che questo è un binomio molto importante che storicamente si formula a proposito di quello che è lo scopo del museo cioè il museo deve avere questo duplice scopo nei confronti della società al cui servizio è ovvero quello di educare chi lo visita di educare la società di aggiungere conoscenza ma anche quello di dare piacere di divertire e vedremo infatti fin proprio dai primi passi che muoveremo nella storia del collezionismo prima ancora che nella storia dei musei veri e propri come proprio questo connubio tra conoscenza tra approfondimento della conoscenza e divertimento svago caratterizza da sempre il collezionismo di oggetti per ora parliamo di oggetti perché naturalmente non parliamo soltanto di opere d'arte che sono quelle che magari più comunemente associamo al museo quindi noi percorreremo durante il nostro corso per grandi linee ovviamente diciamo la storia che va dalla gazzaladra per così dire fino a questa definizione che è proprio dell'estate del 2022 e quindi che più attuale di così non potrebbe essere ci sono domande su questa definizione ok allora passiamo sempre a proposito di terminologia a osservare i due termini che prevalentemente tornano in tutto ciò che riguarda lo studio dei musei vale a dire la museologia e la museografia che come vedete hanno naturalmente in comune il termine museo ma si compongono in modo diverso quindi queste sono diciamo due scienze relative a chi si occupa dei musei che individuano non soltanto due competenze diverse ma anche due professionalità diverse laddove poi noi andiamo ad osservare concretamente chi lavora nei musei chi opera nei musei allora proviamo a immaginare di avere qui adesso in quest'aula che questo sia lo spazio che ci viene affidato per allestire un museo e proviamo a immaginare di avere non lo so dieci dipinti all'interno di questa stanza e ci dicono dovete creare un museo con questi dieci dipinti e con questo spazio che voi avete a disposizione allora cosa facciamo da dove cominciamo cosa dobbiamo decidere ecco questa è la domanda in che senso come organizzare le opere esatto quindi la vostra collega dice come dobbiamo dividerle quindi in quale ordine dobbiamo appenderli in questo caso in questo caso utilizzando l'esempio dei dipinti quindi potremmo scegliere di dividerli per artista per periodo storico insomma stiamo parlando in astratto quindi sicuramente ci saranno vari insiemi che è possibile creare esattamente quindi questa è la prima decisione che noi dovremmo trovarci a prendere e come si chiama questa cosa che noi andremmo a fare che cosa è rispetto al museo si chiama ordinamento questo è l'ordinamento cioè decidere esattamente in quale ordine andranno esposte le opere d'arte e conservo diciamo mi muovo sulla linea dell'esempio fatto dalla vostra collega noi per stabilire ad esempio se vogliamo dedicare ciascuna parete a uno stesso artista oppure ciascuna parete a uno stesso secolo o a una stessa provenienza geografica che cosa si suppone di noi nel momento in cui facciamo questa operazione che siamo in grado di riconoscere e che conosciamo tutti questi dettagli quindi noi per fare per creare l'ordinamento dovremo essere persone che conoscono le opere d'arte la loro datazione e tutto ciò che riguarda la loro storia quindi nel caso appunto di dell'ordinamento di una collezione di dipinti certamente noi dovremo essere degli storici dell'arte che come formazione e che quindi possono esercitare questa professione questo è ciò di cui si occupa la museologia quindi il conoscere le opere d'arte l'essere degli specialisti nella disciplina in questo caso la storia dell'arte se noi avessimo avuto delle sculture antiche naturalmente ci sarebbe stato un archeologo e via dicendo quindi la competenza tecnica è questa l'operazione che si svolge è l'ordinamento e la disciplina a cui questo afferisce è la museologia è tutto chiaro poi che cosa dovremmo fare una volta che abbiamo deciso come ordinare appunto questi dipinti decidere che cosa scrivere sui cartellini accanto alle opere quindi diciamo occuparci di tutto ciò che riguarderà le didascalie in questo caso ma anche se noi adesso proprio fisicamente come disporli non ho sentito organizzare un percorso dovremo probabilmente anche occuparci delle luci di come verranno illuminate di quale colore sarà la parete se noi abbiamo ad esempio delle sculture dovremmo decidere se metterle su delle basi oppure no se metterle contro il muro e quindi vedete qui torna la questione dell'interpretazione fare in modo che lo spettatore vedrà soltanto il fronte della scultura oppure se consentire un passaggio e consentire di osservare la scultura da più punti di vista tutto questo riguarda invece la museografia e di tutto questo quindi si occuperà il museo grafo che solitamente diciamo prevalentemente come formazione è un architetto quindi la creazione di un museo per creazione naturalmente intendo anche il riallestimento le revisioni ovviamente perché è più difficile che si crei un museo piuttosto che si dia un nuovo aspetto a un museo già esistente dovrà essere il frutto di due competenze diverse e qui vi ho messo non ve l'ho mostrato prima appunto perché volevo che arrivassimo per gradi le definizioni ad esempio prese dalla Treccani di museologia e museografia le definizioni che voi trovate molto spesso non distinguono in modo così chiaro queste due scienze per così dire legate al museo però se noi andiamo a leggere che come viene spiegata la museografia la tecnica che si occupa scientificamente della costruzione e della sistemazione dei musei quindi noi capiamo che stiamo parlando di qualcosa che riguarda gli aspetti più concretamente legati appunto alla sistemazione mentre la museologia come vedete viene descritta come disciplina rivolta a ogni aspetto della vita del museo al suo funzionamento e alle sue finalità al di là delle definizioni appunto da vocabolario noi teniamo in considerazione per distinguere in modo chiaro e anche piuttosto semplice se vogliamo questi due termini che sono i due termini cardine sostanzialmente della disciplina che stiamo affrontando che la museologia si occupa appunto dell'ordinamento e prevede la conoscenza della storia della collezione e delle opere che formano questa collezione e la museografia invece si occupa dell'allestimento e delle indicazioni di funzionamento che ricoprono tutti gli ambiti che abbiamo citato prima quindi appunto dal decidere a che altezza disporre un dipinto di che colore avere le pareti fino appunto a tutta la cartellonistica che accompagnerà il visitatore nella visita di una collezione o di un museo è chiara la distinzione allora dove ripeschiamo nella storia il termine il termine scusate museografia lo ripeschiamo cioè per la prima volta lo troviamo appunto diffuso da questo colto mercante di Hamburgo Caspar Friedrich Neichel siamo nel 1727 e lui pubblica questo testo che come vedete dal frontespizio che vi ho inserito nella slide si intitola proprio museografia e è una sorta di raccolta di descrizioni delle collezioni esistenti in Europa che lui dà alle stampe a beneficio non tanto degli specialisti quanto dei curiosi dei viaggiatori voi sapete che il settecento è l'epoca del Grand Tour quindi è un'epoca proprio in cui il viaggio colto si diffonde per tutta Europa e quindi lui ritiene appunto di fornire uno strumento a chi girerà l'Europa con il desiderio di vedere le collezioni per poter avere a portata di mano delle brevi descrizioni di queste collezioni e come la intitola museografia appunto o guida per una giusta idea e un utile allestimento dei musei e delle stanze delle rarità quindi noi vediamo come questo termine sia connesso già a questa data con una giusta idea appunto e un utile allestimento dei musei il termine allestimento come abbiamo visto è strettamente legato appunto alla museografia ora naturalmente questi sono gli albori noi ricordiamoci di questo testo e di una parola molto utile appunto che è utile che sta nel sottotitolo perché quando arriveremo ad affrontare appunto il secolo dei lumi vedremo che l'utilità dei musei sarà un argomento centrale quindi noi in qualche modo questo sarà una delle pietre miliari a cui approderemo ma oggi come abbiamo detto in realtà iniziamo dagli albori iniziamo in qualche modo dalla gazza ladra quindi poco dopo la gazza ladra e vediamo che cosa succede nel mondo antico perché vi ricordo che quello che noi faremo è comprendere secondo quale modalità e per quali ragioni degli oggetti nel corso della storia vi ho detto continuano ad essere inseriti all'interno di questo recinto ideale che li separa dagli oggetti di uso comune a cui pure in qualche modo potrebbero appartenere inizialmente ok ci siamo quindi noi partiamo da questo presupposto che ci accompagnerà sempre nel mondo antico e nel medioevo molto spesso una ragione per identificare in qualche modo come speciali gli oggetti è il loro valore sacro quindi valore all'interno di una credo religioso all'interno di un culto oppure celebrativo della potenza dei vincitori in caso di bottini per esempio noi qui che cosa stiamo vedendo è scritto peraltro quindi vediamo ovviamente il rilievo dedicato sull'arco di tito alla vittoria di tito che ha come dire portato un bel bottino a roma da gerusalemme dopo aver conquistato la città e che cosa stiamo vedendo c'è qualcosa che si riconosce c'è qualche oggetto che si riconosce un po più di altri in questo che è il corteo appunto scolpito esatto che è il candelabro che è come dire a sette bracci che è immediatamente consente di identificare a chi osserva il rilievo da dove proviene quel bottino no quindi un oggetto che appartiene a quale tipo di culto quindi esatto quindi noi abbiamo un oggetto che appartiene al culto ebraico che noi qui stiamo vedendo nella rappresentazione di un corteo che porta questo oggetto in corteo nella roma imperiale d'accordo quindi noi se proviamo a seguire questo oggetto questo oggetto diciamo sarà stato fabbricato da un orefice di gerusalemme supponiamo e sarà stato fabbricato con delle funzioni liturgiche quindi per servire alla liturgia ebraica ok sarà stato poi conservato all'interno del tempio di gerusalemme come uno di quegli oggetti che hanno un grande valore per via del culto a cui sono dedicati nel momento in cui noi lo osserviamo qui nel rilievo che appunto celebra i trionfi di tito questo oggetto continua ad essere all'interno di un recinto ideale di isolamento rispetto agli altri la vostra collega dice no è sicura che questo oggetto non sia speciale continua ad essere speciale tanto che noi ancora oggi lo stiamo vedendo appunto immortalato in un rilievo imperiale però che cosa è successo a questo oggetto al suo essere speciale è stato tolto dal suo contesto e quindi diventa continua ad essere un oggetto in qualche modo separato da tutti i suoi simili quindi ritenuto speciale però è ritenuto speciale in questo caso per una ragione diversa cioè in questo caso è ritenuto speciale perché è manifesto del potere della roma imperiale del potere di conquista dell'imperatore tito quindi il medesimo oggetto in due contesti di civiltà diversi in due contesti geografici diversi in due cronologie anche diverse assume un diverso significato eppure continua ad essere un oggetto speciale naturalmente se noi immaginiamo poi questo oggetto conservato nel corso dei secoli e esposto nella vetrina di un museo archeologico tuttora esistente che cosa sarebbe successo quindi a questo oggetto avrebbe avuto un ulteriore cambiamento di contesto e anche di valore e presumibilmente questo oggetto oggi sarebbe esposto in un museo in cui un visitatore potrebbe apprezzare il suo valore storico quindi io immagino che una scheda di questo oggetto direbbe è il celebre bottino di guerra trasportato dall'imperatore tito eccetera eccetera ma allo stesso modo si offrirebbe allo sguardo per la sua preziosità e per la sua fattura antica quindi diciamo acquisirebbe valore secondo i nostri criteri della nostra cultura attuale e continuerebbe ad essere all'interno di questo recinto ideale che isola gli oggetti rispetto agli altri e sarebbe a questo punto passato attraverso tre almeno tre cambiamenti continuando a rimanere un oggetto speciale è chiaro questo quindi questo accade tendenzialmente con molti oggetti legati ai culti antichi e banalmente se noi pensiamo a tutte le sculture legate alle divinità che raffigurano le divinità pagane per noi sono degli oggetti belli e che testimoniano appunto l'antico ma erano degli oggetti di culto nella civiltà all'interno della quale sono stati realizzati quindi c'è questo cambiamento di significato ma l'oggetto resta comunque speciale è chiaro che attenzione se si giunge ad una momento culturale o di civiltà e questo è molto importante e questo lo vedremo molto bene nel secondo modulo in cui ci occuperemo di restauro se si giunge ad un momento in cui per nessuna ragione né estetica né culturale di nessun tipo si riconosce la specialità di un oggetto è chiaro che questo oggetto può rischiare di uscire appunto da questo recinto ideale di non essere più considerato un oggetto speciale e quindi può uscire da tutta quella serie vi ricordate di prescrizioni legati alla collezione e quindi finire anche disperso perché naturalmente può cambiare la modalità di considerare un oggetto speciale ma bisogna che questo oggetto continui ad essere considerato per qualche ragione speciale altrimenti si perderà in qualche modo la volontà di conservarlo quindi questo anche è da tenere in considerazione dicevamo appunto ci sono delle proprietà legate al culto per cui degli oggetti vengono ritenuti speciali i tesori delle cattedrali lo vedrete anche nella bibliografia erano sostanzialmente dei musei antelitteram abbiamo appena visto il caso di un oggetto legato alla liturgia quindi come si raccogliessero degli oggetti con una finalità che era del tutto diversa rispetto magari all'apprezzamento estetico che ne garantisce la conservazione oggi ma per ragioni appunto di culto anche perché si riteneva che degli oggetti avessero poteri miracolosi e non a caso vi ho messo l'esempio della madonna del parto di piero della francesca che è per noi oggi uno dei più importanti dipinti del rinascimento italiano e la conservazione diciamo e l'esposizione di questo dipinto si deve al fatto appunto che sia uno dei capolavori di un grande maestro come piero della francesca ma qual era invece il motivo della devozione nei confronti di p di questo dipinto della sua conservazione e delle attenzioni che la comunità a cui era stato destinato inizialmente gli rivolgeva qualcuno di voi lo sa però secondo me ci potete arrivare che cosa ha questa madonna di particolare a parte che ha anche un titolo che vi ho messo nella didascalia che vi può aiutare abbiamo detto la madonna del parto quindi siamo in questo caso nel culto cristiano cattolico e esatto si rivolgevano preghiere davanti a questa opera la madonna del parto per l'appunto perché si riteneva che fosse in grado di concedere la grazia alle donne che volevano restare incinta per l'appunto quindi c'era una connessione tra il soggetto del dipinto e come dire l'utilizzo dal punto di vista del culto da parte delle donne prevalentemente della comunità è chiaro che nel corso del tempo questo dipinto ha perso questo valore questo presunto potere miracoloso e ripeto oggi è molto più probabile che questo dipinto sia apprezzato dalla nostra società contemporanea per il suo valore artistico quindi lo stesso oggetto cambia ragione per cui è considerato speciale ed è quindi oggetto di attenzione e di conservazione a seconda dei cambiamenti intervenuti nella civiltà un altro esempio di potere in qualche modo evocativo di oggetti legati al culto nel medioevo è dato da ciò che scrive il celebre abate di saint denis sujet che è abate di saint denis come vedete dal 1122 quindi siamo nel dodicesimo secolo qualcuno di voi conosce questo personaggio allora nell'abbazia appunto di cui lui è abate ha conservato uno straordinario tesoro parlavamo prima appunto di come i tesori delle cattedrali diventino degli insiemi delle raccolte di oggetti molto preziosi qui vi ho inserito un'incisione che è un'incisione settecentesca che mostra vedete come messi in posa alcuni di questi oggetti che però ci danno l'idea appunto della preziosità anche proprio di questo se vogliamo luccichio di cui parlavamo prima a proposito della gazzaladra no e tutto questo oro tutta questa sfoggio di metalli preziosi che sono però oggetti liturgici che sono conservati all'interno di una cattedrale e che sono sottoposti allo sguardo di una persona profondamente credente come appunto sujet lo portano appunto a scrivere in questo testo de rebus in amministrazione e sua gestis di questa esperienza estetica proprio della contemplazione di questi oggetti della contemplazione di queste opere che secondo lui gli comportano una sorta di ascesa spirituale quindi un avvicinamento a dio che è ricordiamoci sempre in una visione cattolica il creatore naturalmente di tutta la materia che nonché dell'uomo che è colui che lavora la materia e quindi in realtà il responsabile primo di tutta questa bellezza che viene poi raccolta nella cattedrale per cui c'è un collegamento anche in questo caso vediamo come dire favorito da queste opere dalla preziosità e dalla bellezza di queste opere che colpiscono colui che osserva queste opere e in qualche modo gli consentono una connessione con il divino. Questo concetto di opere che oggetti proprio la cui osservazione la cui contemplazione può connettere ad una realtà invisibile è qualcosa che sarà centrale proprio per quanto riguarda l'afflato collezionistico del primo umanesimo e adesso tra un attimo ci torniamo quindi ricordiamoci appunto di questo esempio del abate sujet per tenere conto di questo potere in qualche modo che veniva avvertito da parte delle opere d'arte e della loro preziosità e vediamo come questo questa capacità in qualche modo di rievocare in questo caso qualcosa che torna dal passato sia sempre stato proprio anche ovviamente dell'antico, questo forse è qualcosa che è più consueto per noi quindi l'antico ha un messaggio formale, le forme dell'antico che come sapete sono sempre state come dire indicate come il massimo raggiungimento dal punto di vista dell'estetica all'interno delle vicende della storia dell'arte contiene però in sé anche un valore morale cioè le virtù degli antichi che sono le virtù peraltro ricordiamoci che giungono ai moderni attraverso cosa? secondo voi perché i moderni pensano che gli antichi, adesso faccio la domanda che banalizza un po' però perché i moderni pensano che gli antichi fossero così virtuosi? Chi glielo potrà mai aver raccontato? esatto i testi, sì è una domanda molto facile quindi noi ovviamente ci occupiamo principalmente di oggetti che trasmettono il messaggio formale dell'antico ma voi dovete considerare che un erudito ovviamente accanto alla visione degli oggetti avrà anche la letteratura dei testi che raccontano della civiltà che ha prodotto questi oggetti quindi l'osservazione e la contemplazione di oggetti che provengono dall'antico diventano in qualche modo una fonte di ispirazione per esercitare le virtù degli antichi e questo che forse come dire a noi potrà sembrare un po' distante dal nostro modo di osservare appunto le antichità invece è un altro dei temi portanti e centrali dell'inizio del collezionismo proprio nell'umanesimo e qual è l'inizio del collezionismo? l'inizio del collezionismo noi lo possiamo osservare e delle modalità di collezionismo attraverso alcune testimonianze noi abbiamo per esempio il testamento del 1368 quindi piuttosto presto di Oliviero Forzetta che era un notaio di Treviso, commerciante di preziosi ma soprattutto diciamo che riuscì ad avere molta liquidità grazie alla sua attività di prestatore di soldi per quanto ne sappiamo lui fu il primo a mettere insieme una vera e propria collezione per come noi la intendiamo cioè un raggruppamento di disegni, dipinti, sculture uniti a una biblioteca e quindi diciamo alla metà del 300 noi abbiamo testimonianza già del fatto che ci fosse questo desiderio di affiancare quindi queste tipologie di oggetti che noi definiremmo diciamo opere d'arte accanto a dei libri, ad una biblioteca quindi entriamo nel campo come vi accennavo inizialmente della conoscenza in qualche modo e poi abbiamo la preziosissima testimonianza di Petrarca, di Francesco Petrarca quindi siamo contemporanei a Forzetta, siamo sempre nel 300 nel suo De vita solitaria Petrarca esalta proprio il raccoglimento in un luogo molto appartato in solitudine ovviamente e racconta di come questo raccoglimento possa consentire in qualche modo di connettersi mentalmente alle epoche perdute, alle epoche passate e quindi gli oggetti prodotti da queste epoche possono essere dei trasmettitori in qualche modo di sollecitazioni che nella riflessione, nella contemplazione solitaria aiutano a connettere la propria testa la propria mente, scusate, a queste epoche perdute quindi gli oggetti diventano in qualche modo dei portatori di significato dei portatori di questi valori, di queste epoche lontane che consentono al pensatore solitario di recuperare in qualche modo i valori di quelle epoche è chiaro questo? Quindi anche il discorso che vi facevo poco fa appunto questo Petrarca lo spiega molto bene, non è una nostra interpretazione diciamo ma è una testimonianza di un uomo dell'umanesimo in prima persona e l'ambiente in cui tutto questo avviene è lo studiolo noi abbiamo questa definizione per lo studiolo e soprattutto abbiamo la conoscenza di alcuni studioli soprattutto quattrocenteschi pertanto noi possiamo iniziare a sapere abbastanza nel dettaglio come erano fatti questi luoghi in cui il proprietario di questi oggetti con cui arredava, riempiva questo studiolo si rinchiudeva per riflettere, per pensare e quali sono le caratteristiche dello studiolo quattrocentesco? Lo studiolo è innanzitutto un luogo appartato è un ambiente piccolo che spesso ha una pianta quadrata o rettangolare ed è voltato a botte, quindi l'architettura stessa di questo luogo favorisce il raccoglimento normalmente è privo di finestre, quindi non c'è un'illuminazione diretta se proprio possono esserci delle vedute, quindi la riproduzione artificiale perché secondo voi non ci sono finestre, non c'è illuminazione diretta? Ora che abbiamo un po' iniziato a capire a cosa può servire questo luogo per isolarsi completamente dalla realtà circostante è un ambiente aperto a pochissimi, talvolta direi quasi a nessuno ed è ovviamente pieno di questi oggetti che servono, che sono utili alla meditazione e allo studio per caso a qualcuno di voi viene in mente qualche studiolo di cui può aver sentito parlare o addirittura visitato quello di Firenze esattamente a cui arriveremo nella prossima lezione appunto Francesco I de' Medici fu un grande realizzatore di uno studiolo molto importante in Palazzo Vecchio che si connette naturalmente alla tradizione delle collezioni Medice c'è un altro grande personaggio precedente quindi perché come vi ho detto seguiamo un po' un ordine cronologico e quindi il primo studiolo che andiamo a vedere per vedere come era fatto è quello di Federico da Montefeltro quindi ci troviamo ad Urbino Federico come sapete era un soldato di professione lui faceva il mercenario quindi diciamo andava a combattere guerre per conto terzi e durante quindi questi suoi lunghi e continui spostamenti riusciva a raccogliere molte opere soprattutto Federico da Montefeltro fu un grande bibliofilo molto celebri sono le cronache appunto un po' di questo fare predatorio che lui aveva nei confronti delle biblioteche delle città in cui andava a combattere parliamo quindi di un nucleo collezionistico che si forma si raccoglie intorno agli anni 70 del 400 collocato come vi dicevo all'interno del palazzo ducale di Urbino dove Federico si fa costruire appunto questo ambiente il suo studiolo chiamando come architetti Luciano Laurana e Francesco Di Giorgio Martini quindi una caratteristica degli studioli quattrocenteschi di questi personaggi così importanti è il coinvolgimento di grandi architetti nella realizzazione e di grandi artisti nella decorazione lo studiolo di Federico da Montefeltro come vedete è caratterizzato appunto dalla presenza di queste tarsie linee che non sono delle tarsie linee qualunque ma sono delle tarsie linee lavorate come spero si veda realizzate da vari autori da vari maestri su disegno di altrettanti vari maestri tra cui potete vedere appunto lo stesso Francesco Di Giorgio Martini Donato Bramante e Botticelli quindi vi ripeto c'è sempre questa caratteristica di chiamare grandi artisti per la realizzazione di questi ambienti ma queste tarsie che cosa raccontano che cosa vogliono dire a chi le osserva sono naturalmente delle decorazioni linee legate a Federico e alla vita di Federico agli hobby, alle passioni di Federico cioè del proprietario quindi all'interno di questi armadi che conservano gli oggetti che lui colleziona ci sono appunto queste rappresentazioni vediamo qui le armi del duca che ovviamente sono uno dei primi tasselli della biografia di Federico da Montefeltro nonché l'elogio quindi della sua bravura della sua capacità come condottiero e poi vediamo invece in quest'altra tarsia su quest'altro armadio dove sono rappresentati diciamo degli oggetti legati a dei libri scusate legati quindi alla sua passione per i libri ma anche come vedete per la musica non so se riuscite ah io sbaglio sempre se riuscite a vedere che questo è uno spartito quindi è citata anche la musica e c'è qui come vedete un motto i motti anche sono tipici della descrizione diciamo che le decorazioni degli studioli vogliono fare di chi li abita e in questo caso il motto scelto da Federico è virtutibus itur ad astra un motto virgiliano come vedete proveniente dalle neide che indica attraverso le virtù si giunge alle stelle quindi questo motto che cosa vi fa pensare a proposito di quello che abbiamo detto fino ad ora è un motto che diciamo a celebrarsi attraverso possedere oggetti di attenzione particolare che sono delle posizioni in Italia quindi sono particolare in Italia accresce e quindi si leva a esatto quindi la vostra collega giustamente mette questo in relazione al fatto dell'accrescimento delle virtù da una parte quindi il collezionare e il raccogliersi all'interno di questi ambienti consente in questo caso a Federico da Montefeltro di elevare le proprie virtù ma anche naturalmente di sponsorizzare in qualche modo di pubblicizzare queste virtù attraverso queste tarsie e i motti a chi a quei pochi che saranno ammessi all'interno dello studiolo e che potranno godere in qualche modo di questi oggetti preziosi che vi si raccolgono non a caso a proposito di virtù nello studiolo di Federico da Montefeltro erano conservati da lui commissionati tutti ritratti come vedete che raffiguravano degli uomini illustri una serie di 28 ritratti su due registri quindi 14 e 14 che raffiguravano degli uomini illustri che fossero quindi degli esempi di virtù provenienti dalla storia quindi dal passato che ispirassero le azioni del duca che si raccoglieva in questo spazio anche in questo caso abbiamo come dire due artisti di rilievo Giusto Di Gand e Pedro Berrughete che realizzano questi ritratti la serie andò poi dispersa nel corso del tempo e quindi in realtà soltanto alcuni di questi ritratti che per varie vie erano finiti a Roma in collezione Barberini furono poi acquistati dallo Stato per il Palazzo Ducale di Urbino e quindi tuttora se noi ci rechiamo lì possiamo osservarli mentre gli altri non sono più collocati in situ però la foto che vi ho messo è una foto di una mostra che nel 2015 ha riportato appunto i ritratti al loro posto per consentire ai visitatori di rivivere l'esperienza di visitare appunto lo studiolo di Federico da Montefeltro così come era stato concepito quindi anche la presenza di ritratti di uomini illustri e questo pure tornerà nelle immagini che vedremo aiutava in qualche modo colui che si raccoglieva all'interno di questi ambienti a connettersi con ideali più alti che avrebbe poi perseguito nella sua vita per farci un'idea di come stava diciamo un personaggio insomma all'interno di uno studiolo dell'umanesimo su tutti i manuali compreso quello che dovrete studiare voi per questo esame si utilizza un esempio e l'esempio è questo dipinto di Vittore Carpaccio che raffigura Sant'Agostino nel suo studiolo che è conservato alla scuola di San Giorgio degli Schiavoni e che è in realtà un dipinto naturalmente che raffigura uno dei dottori della Chiesa mentre è intento alla sua riflessione ma perché allora viene utilizzato per comprendere come può essere uno studiolo perché naturalmente Carpaccio nel dover immaginare un'ambientazione per Sant'Agostino si ispira a quello che lui può conoscere a quello che lui al suo tempo può vedere quindi proviamo insieme ad andare a vedere che cosa succede in questo dipinto tralasciando naturalmente il fatto che stiamo parlando di un santo quindi di una figura che non è ritratta dal vero ma di cui è ricreata diciamo una narrazione quindi che tipo di ambiente vediamo che tipo di oggetti vediamo libri esatto libri rotoli in questo caso comunque insomma dei testi quindi esatto qui qua intende ci sono degli oggetti dei piccoli oggetti che sembrano essere appunto degli oggetti antichi che sono esposti su una mensola ci sono poi ovviamente anche degli oggetti legati al culto e naturalmente stiamo parlando di Sant'Agostino e infatti proprio per il fatto che stiamo parlando di Sant'Agostino c'è una grande differenza in questa raffigurazione di uno studiolo rispetto a quello che abbiamo detto degli studioli riuscite a individuarla? esatto c'è la finestra da cui filtra la luce naturale ma questo perché naturalmente sapete Sant'Agostino è colui che disquisisce sulla grazia divina la luce è il simbolo che si utilizza sempre in pittura per raffigurare la grazia divina e quindi è evidente che Sant'Agostino deve avere una finestra al suo fianco ci sono però c'è un altro tipo di oggetti che possiamo osservare esatto c'è un globo cioè ci sono degli oggetti legati in qualche modo all'aspetto più scientifico del mondo questo perché Agostino così Agostino diciamo la narrazione di Agostino che fa fatta all'inizio del Cinquecento così come tutti gli uomini di lettere o comunque acculturati che si rinchiudono in questi ambienti lo vedete anche lo studiolo raffigurato da Carpaccio è un ambiente piuttosto piccolo raccolto cercano qual è il loro diciamo scopo oltre quello di connettersi con un passato che possa ispirarli ad essere virtuosi cercano anche di acquisire la maggiore conoscenza possibile del mondo del creato e quindi naturalmente tutta la parte legata alle scienze alle scienze nelle loro diciamo varie fasi evolutive qui siamo all'inizio del Cinquecento saranno centrali e gli oggetti legati alle misurazioni scientifiche saranno tra quelli prevalentemente raccolti all'interno degli studioli inizia poi però allora noi abbiamo visto come dire questa descrizione di Petrarca che ci dà l'immagine di un luogo completamente inaccessibile abbiamo visto come giustamente sottolineava la vostra collega che già nello studiolo di Federico da Montefeltro abbiamo l'idea un po' che evidentemente oltre a raccogliersi a meditare facesse entrare qualcuno tanto da sponsorizzare se stesso diciamo attraverso questo programma iconografico e infatti la grande differenza che vediamo sorgere tra lo studiolo umanistico e lo studiolo di corte o lo studiolo principesco è proprio il fatto che piano piano viene previsto il fatto che ci sia qualcuno pochissimi parliamo di visitatori selezionatissimi che sia ammesso all'interno di questo spazio e di conseguenza questo spazio inizia a voler informare l'eventuale visitatore di qualcosa è questo il caso dello studiolo appartenuto ad un altro straordinario personaggio storico che certamente tutti conoscerete e cioè la Marchesa Isabella d'Este e ci spostiamo quindi a Mantova dove Isabella d'Este fu l'unica donna del rinascimento a possedere una collezione a possedere uno studiolo in cui questa collezione veniva raccolta e ospitata Isabella che noi conosciamo grazie ad alcuni ritratti tra cui questo che è forse il più celebre che vi ricordate di chi è? esatto di Leonardo da Vinci con cui appunto la Marchesa ebbe anche intrattenere anche scambi per l'appunto lei raccoglieva opere d'arte come vedete opere reperti archeologici curiosità naturalistiche e nella prossima lezione ci occuperemo molto di questo termine curiosità con questo suo questo lo scrive lei appunto in una lettera insaziabile desiderio tutti oggetti che lei appunto offriva alla vista di selezionatissimi ospiti nel 1491 Isabella inizia la sistemazione del suo primo studiolo nella torretta di San Nicolò ma nel 1522 lo trasferisce nella corte vecchia di Palazzo Ducale e già noi immaginiamo questo trasferimento evidentemente è un po' se vogliamo possiamo assumerlo un po' come simbolico cioè l'uscita da una torre per entrare in una parte di un palazzo a proposito di isolamento rispetto invece a disvelamento a dei selezionatissimi ospiti allora vediamo come era fatto lo studiolo che conservava un ciclo di dipinti che Isabella commissionò appositamente proprio per la decorazione di questo ambiente a quelli che erano i maggiori artisti attivi in quel momento da cui lei desiderava ricevere delle opere su soggetti da lei stessa suggeriti quindi vi ricordate abbiamo visto le tarsie di Federico da Montefeltro che parlavano di Federico che raccontavano quella che era la vita e le passioni di Federico e qui abbiamo invece Isabella d'Este che come vedete fa allestire questi dipinti in un arco di tempo abbastanza lungo tra il 1496 e il 1530 tutti i dipinti furono poi nel 600 venduti al cardinale Richelieu e quindi i dipinti si trovano oggi al Louvre e non sono più in situ voi potete vedere però da questa fotografia immaginare che questi dipinti ricoprivano le parti bianche appunto ed erano separati da queste cornici dorate vedete anche in questo caso un ambiente piuttosto raccolto ma che tipo di dipinti avrà richiesto Isabella allora qui vedete due tra i capolavori che erano conservati nello studiolo di Isabella e di Andrea Mantegna abbiamo da una parte la rappresentazione del Parnaso e da una parte la rappresentazione di un fatto mitologico cioè Minerva che scaccia i vizi dal giardino della virtù allora iniziamo qui a come dire entrare non tanto e non soltanto nella cultura della collezionista e quindi di Isabella d'Este quanto secondo voi in cosa perché mai avrà scelto allora vi ricordo che Isabella d'Este oltre ad essere appunto ad avere un potere straordinario per una donna nella sua epoca vi ricordo anche che lei fu reggente durante l'arresto e la mancanza del marito e poi dal 19 dopo la sua morte fu reggente per la minore età del figlio quindi ci troviamo di fronte ad una donna che nel rinascimento diciamo guida uno stato forse questo vi può aiutare a interpretare in qualche modo la sua scelta di queste tematiche affidate appunto a iconografie ispirate all'antico alla mitologia esatto esatto allora la vostra collega dice nel dipinto relativo a Minerva che scaccia i vizi dal giardino della virtù la protagonista dell'azione è una donna ma la protagonista che è Minerva ovviamente ma la protagonista peraltro è una protagonista che in qualche modo mette ordine nell'ambiente in cui appunto è ambientata la storia perché scaccia i vizi dal giardino della virtù quindi effettivamente può esserci un parallelismo con una donna che governa e che esercita un buon governo e che vuole suggerire il fatto che sotto la sua guida ci sia un buon governo e Minerva per l'appunto che scaccia i vizi dal giardino della virtù noi tra l'altro se andiamo avanti a osservare i dipinti che erano presenti nello studiolo di Isabella vediamo ancora più chiaramente questo soggetto commissionato a Pietro Perugino sempre vi prego di tenere conto della come dire anche della volontà di esibire un potere di committenza nel chiamare questi grandi artisti a realizzare dei dipinti per lei e nel raccogliere tutti insieme in un ambiente molto piccolo opere di artisti molto quotati e quindi che avevano molte richieste e per cui non era facile soddisfare tutte le richieste che avevano e che invece Isabella riesce a raccogliere quindi c'è uno sfoggio anche di questo tipo oltre a di cui dobbiamo tenere conto oltre che i soggetti dei dipinti quindi dicevo Pietro Perugino abbiamo la lotta tra amore e castità quindi un'altra volta un soggetto che in qualche modo vuole sottolineare le virtù morali di questa marchesa di questa donna all'interno dello studiolo in cui lei raccoglie i dipinti e ancora più chiaro è l'allegoria della corte di Isabella come vedete un dipinto del 1506 di Lorenzo Costa in cui noi vediamo appunto un che cosa vediamo ditemi voi dunque innanzitutto siamo usciti dalla metafora mitologica no? quindi vediamo delle figure che sono piuttosto contemporanee rispetto ai dipinti che abbiamo visto fino adesso e poi se voi foste un visitatore e ovviamente se voi foste un visitatore dello studiolo di Isabella sareste una persona di alto rango probabilmente qualcuno che governa un altro stato o qualcuno mandato da qualcuno che governa un altro stato e che impressione potreste avere da questa raffigurazione? Sarebbe molto più di a esatto quindi diciamo ne ricavereste un'impressione di un luogo idilliaco dice la vostra collega quindi di un luogo in cui si vive bene e ovviamente un luogo in cui si vive bene è un luogo ben governato e naturalmente ben governato da Isabella e da Igonzaga in generale quindi da diciamo dalla famiglia che ha questa questa responsabilità questo onere appunto del buon governo e poi nella cultura appunto rinascimentale nella cultura di Isabella nella cultura di questo momento funzionano molto le come dire le contrapposizioni e questo è molto ben rappresentato da due dipinti commissionati a Correggio l'allegoria del vizio e l'allegoria della virtù quindi le opposizioni suggeriscono il fatto che ci sia una scelta che quindi ci sia un indirizzo e in qualche modo che Isabella sia in grado di seguire uno degli indirizzi quindi questi due straordinari dipinti appunto commissionati a Correggio come vedete mostrano la rovina a cui porta a cui conduce il vizio e mostrano invece l'armonia a cui conduce la virtù ora noi abbiamo diciamo osservato questi dipinti immaginandoceli in questo spazio concluso dello studiolo di Isabella Deste ma anche con la consapevolezza che questi dipinti noi oggi dove li vediamo abbiamo detto? All'ouvre quindi li vediamo naturalmente in un museo in cui questi dipinti saranno esposti secondo l'ordinamento di quel museo e quindi saranno certamente intervallati da altri dipinti che nulla hanno a che fare con il contesto di provenienza di questi dipinti ma nel momento in cui noi andassimo ad occuparci di questi dipinti a voler conoscere la loro storia anche per esempio ad analizzare tutto quello che riguarda gli eventuali pentimenti che possono esserci sotto ad un dipinto delle minime variazioni iconografiche naturalmente voi pensate che possa essere utile se noi sappiamo da dove vengono questi dipinti che storie hanno avuto e perché sono stati fatti bene perché se mi dite di no ci alziamo ce ne andiamo e torniamo facciamo altro no però questo per dire appunto che questo ad esempio dei dipinti dello studiolo di Isabella d'Este è un grande classico degli esempi di come in questo caso rispetto a quello che abbiamo detto inizialmente noi prima parlavamo di oggetti che nascono con un uso e poi appunto cambiano il valore che viene attribuito a questi oggetti ora i dipinti dello studiolo di Isabella è evidente che sono sempre rimasti all'interno di questo recinto ideale che abbiamo tracciato come oggetti speciali e lo sono sempre rimasti in quanto opere d'arte cioè vengono già commissionate come opere d'arte non sono nemmeno delle pale d'altare che hanno uno scopo devozionale nascono e conducono tutta la loro vita diciamo come delle opere d'arte eppure anche il cambiamento di contesto e come dire in epoca molto più recente la musealizzazione ovviamente implica in qualche modo la perdita di un pezzo del loro significato dunque se noi visitando il museo del Louvre ci troviamo nella sezione in cui sono conservati scusate i dipinti di Correggio ad osservare ad esempio queste due opere potremo apprezzarne la bellezza potremo magari se siamo degli esperti riconoscere le iconografie e i riferimenti iconografici appunto che sono contenuti in questi dipinti ma avremo perso completamente il legame con il contesto originario che certamente ci spiega anche le scelte legate a queste iconografie che sono delle scelte quindi che vogliono celebrare Isabella e la vogliono celebrare evidentemente agli occhi di qualcuno che questi dipinti li dovrà pur vedere quindi vediamo che noi nel giro di poco tempo siamo passati da un ambiente in cui gli oggetti vengono raccolti ad uso esclusivo della meditazione della contemplazione del proprietario ad un posto ancora piccolo ripeto e aperto a pochissimi però in cui già quindi nel allestire uso questo termine non a caso gli oggetti e nello scegliere come vengono ordinati e esposti si presume che ci sarà qualcun altro che non è soltanto il proprietario che potrà godere di questi oggetti e anzi che attraverso questi oggetti potrà pensare a quanto è potente quanto è bravo o in questo caso quanto è morale casta e pura e brava governante colei o colui appunto che ha raccolto questi oggetti quindi ci troviamo già davanti ad un grande scarto per quanto come vedremo nella prossima lezione stiamo parlando proprio di pochissimi e selezionatissimi visitatori e non dobbiamo pensare al pubblico dei musei che noi abbiamo oggi che abbiamo in mente oggi ma piano piano ci arriveremo e questo come dire aprire questi spazi conclusi a dei primissimi visitatori però già spero che vi dia l'idea della questione dell'interpretazione di cui parlavamo all'inizio quindi già queste opere ovviamente sono interpretate dal proprietario per fornire una chiave di lettura con cui eventualmente il visitatore uscirà e che conserverà nella sua mente è tutto chiaro? allora ci salutiamo a Mantra Mantua e il Museo del Louvre e ci vediamo alla prossima lezione grazie